è proibita voi cani potete respirare potete respirare il PM10 nelle sintasi che gli viene il cancro nei polmoni ma le canne no 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 tanto la gente si fuma il fumo che esce da lingua no dall'acciaieria quello che le canne no no basta alterni 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 ehi 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 no no tu puoi portare un bambino per strada alza un pulmono un camion con la marmitta grossa così il camion ti ferma il temato il bambino ti vuole insegnare la marmitta del camion no 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 non no 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.